Ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e febbre, a che cazzo servono? Cioè ma l'avete capito che ho avuto i cioteri? L'avete capito che chi cazzo ti andava a vedere questi capelli a giustare i capelli? Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? Dovete stare a casa, non avete capito che la gente muore? Più di 400 persone al giorno stanno muorendo, muorendo. Ma ve lo dico chiaramente, sappiate che domani vi becco, domani, non pensiate tra anni, domani. Avete qualche minuto di tempo prima che ci arriviamo noi a voi. Non siate killer, non siate killer. Stamattina in via Montevergine Petti ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passava a casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete? Tutti questi buon vicinato ci sono a Delia. Tutti questi buon rapporti vicinato ci sono a Delia. Gente che per fare il cartellone, il cartellone, entra tutto bene. A casa 20 persone per fare il cartellone perché il cartellone deve essere bello. E chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contagio. Ma ragazzi io corro da 20 anni, tra alti e bassi corro da 20 anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i polisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestra, la scuola elementare. Ma dove andate a correre? Scusate, i cani di Rossano sono stanchi. Non usate la scusa del cane. I cani sono sfiniti, sfiniti. Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa, fuori di testa, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e tutte belle depilate, unghie, tutto a posto, però morirete. Dovete andare a casa, non potete stare qua, andiamo. Non vi guardate così, dovete andare a casa, è vietato, dovete andare a casa. Andiamo, andiamo. Stiamo con i piedi nel lato, la mano, la mano, la mano. A casa, tutti voi, non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo. Alla playstation, andate a giocare alla playstation a casa, non si può stare qua, andiamo, andiamo. Stanno succedendo veramente, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me, di crepa cuore mi farete ammalare. ... ... ... ... Grazie a tutti